Ciao, benvenuti all'opening della playlist scorci, mete, panorami e percorsi delle foreste casentinesi In questa playlist esploreremo virtualmente alcuni scorci, percorsi, mete delle foreste casentinesi Se questi video vi piacciono iscrivetevi al mio canale di Youtube, mettete un like oppure commentate questi video Ciao, benvenuti ad un altro episodio di scorci, mete, percorsi e panorami delle foreste casentinesi In questo episodio esploreremo virtualmente in tempo reale il sentiero che da Fonte Duchessa conduce a Cotozzo E poi faremo il percorso a Ritrus Sono circa 2 km all'andata e 2 km al ritorno Con uno strappo di salita iniziale piuttosto pesante Poi il sentiero si snoda sul crinale con aldi e bassi Con una foresta di abeti che poi lascia il campo ad una foresta di latifoglie con faggi e qualche castagno Anche questo percorso è spesso molto trafficato da appassionati di trekking e passeggiate E è ovviamente immerso in una splendida foresta Un saluto 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.